Eccoci qui e benvenuti a una nuova lezione Oggi vediamo i cookies, cookies al cioccolato Questa ricetta mi ha accompagnato per tantissimi anni Ho fatto carrelli interi, quintali di questi biscotti Uno spuntone Così Non vi preoccupate se non è perfetto, a noi non ci interessa perché tanto si allarga E mi raccomando, ben distanziati Adesso ve li faccio molto larghi perché non voglio che si attacchino Quindi uno, due, tre Escono tantissimi biscotti Ne ho fatti un altro po' poi per finire l'impasto su carta da forno Potete farla sulla carta da forno, se fate la carta da forno Burro spray per incollare la carta da forno in modo tale che non scivola E fate i vostri biscottini, guardate che belli Io vi saluto con questa bella montagnetta di cookies E ci vediamo alla prossima lezione Ciao Ciao